Ciao, oggi ti presentiamo le novità del modulo finanze di Xfarm, pensate per semplificare la gestione economica della tua azienda agricola. Nella schermata di base del modulo finanze hai una panoramica delle entrate e delle uscite della tua azienda agricola, visualizzate mediante grafici e tabelle intuitive. È stata aggiunta la possibilità di filtrare il periodo del grafico dall'impostazione in alto a destra e i grafici si aggiorneranno in base al periodo impostato. Questo ti permette di valutare le fasi della produzione più impattanti e di calcolare il profitto. Inoltre è stata introdotta una mappa che mostra i margini culturali per ogni campo, fornendoti una visione chiara della reddittività di ciascun'area della tua azienda agricola. Andiamo ora sotto costi. Con le nuove categorie di fatture, ora puoi vedere chiaramente i costi annuali di affitto e di ammortamento per i macchinari e per i campi. Infatti andando sotto fatture varie e sotto categoria puoi selezionare o campi o macchinari, in questo caso macchinari e sotto l'opzione ripartizione costo andare a selezionare affitto o ammortamento. Per esempio se hai un trattore in affitto o una rata di proprietà puoi vedere quanto costa mantenerli anno dopo anno e decidere se è il caso di acquistarne uno nuovo o continuare con l'affitto. Ora inoltre puoi assegnare costi specifici a ciascun campo, come è visibile qui di seguito sotto l'opzione campi, per avere sempre sotto controllo le spese. Questo ti aiuterà a capire meglio quali colture sono più costose e come poter risparmiare, magari modificando le rotazioni delle colture per il prossimo anno. Inoltre se hai degli operai ora puoi inserire il loro costo mensile, per avere un quadro più chiaro delle spese mensili e programmare meglio il lavoro dei campi, come è visibile qui di seguito, sotto preferenze se scegliere mensile o annuale. Nella nuova sezione finanza su attività, come è visibile qui di seguito andando a selezionare un'attività, puoi vedere tutti i costi e ricavi per ciascuna attività agricola, così da capire meglio quali sono le più rettitizie. Tornando sul modulo finanza e sotto l'opzione margini culturali, con gli indicatori come euro etero, euro pianta e euro ora, puoi valutare la reddittività delle tue colture in modo più preciso. Per esempio, potresti scoprire che il costo per etero delle coltivazioni di grano è inferiore rispetto a quello del mais, aiutandoti a prendere decisioni informate per le prossime stagioni di coltivazione. Queste sono solo alcune delle funzionalità del modulo finanza di Xfarm. Ti invitiamo a esplorare tutte le opzioni disponibili e a scoprire come possono aiutarti a gestire al meglio le finanze della tua azienda agricola. Grazie per aver guardato questo video tutorial e per ulteriori informazioni visita il nostro sito.